Buongiorno cari concittadini, sono qui a Massa Finalese in località Saldentrà. Sono qui per documentarvi i lavori che abbiamo effettuato sulla strada, che hanno comportato il completamente rifacimento di un lungo tratto di asfaltatura su una strada che effettivamente aveva la necessità di un intervento molto capillare e risolutivo. Prosegue comunque il piano di asfaltature programmato dal Comune di Finale Emilia che riguarderà una serie di strade nel nostro territorio comunale, in particolare a Massa Finalese via Albero.